Si chiude con le regioni questa stagione delle primarie del PD. Domenica 16 febbraio dalle 8 alle 20 si vota per scegliere il nuovo segretario regionale. In Lombardia i candidati sono due, Diana De Marchi, area di Civati, e Alessandro Alfieri, che ha unito l'area renziana a quella di Cuperlo. Anche stavolta le primarie sono aperte, possono partecipare al voto per l'elezione del segretario e dell'assemblea regionale tutte le elettrici e gli elettori che al momento del voto dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrate nell'albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Per votare bisognerà devolvere un contributo di 2 euro destinato al territorio. Speriamo che vengano elettori iscritti del PD, la fase nazionale certamente non aiuta, far capire cosa è successo a Roma è complicato, noi però vogliamo parlare di Lombardia, il progetto lo abbiamo chiamato Lombardia 2018, vogliamo vincere le prossime elezioni regionali, abbiamo vinto in tanti comuni della Lombardia, governiamo la maggioranza dei comuni capoluogo, adesso è il momento di fare il salto. Noi dobbiamo anche cambiare il modello culturale dei nostri cittadini perché capiscano quale può essere la differenza se tu proponi un modello di sviluppo nuovo, ma bisogna lavorare insieme a tutti quanti e non chiudersi e pensare, elaborare da soli e poi dire questa è la proposta giusta, ma partecipiamo, mobilitiamo le persone, ascoltiamo le realtà competenti che abbiamo fuori e facciamole lavorare insieme a noi per costruire un progetto che sia condiviso da tutti. Grazie. 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 Grazie.